E' così, ci sono partite che la tua storia la fanno diventare piccola o grande, per cui è da questa sfida qui che poi si hanno dei risultati importanti su quelle che sono le proprie storie. Nonostante molti siano giovani e sia la prima volta che si trovano a giocare queste sfide estreme, come si sono chiamate l'altra volta, perché è così, mi sembra di vedere l'atteggiamento giusto per andarsela a giocare, per chiapparci poi delle cose e per far vedere gli insegnamenti che abbiamo ricevuto. E' chiaro che dopo una partita così l'idea di poter cambiare qualcosa c'è, perché poi probabilmente ho sbagliato io a non cambiare prima, visto quella che è stata la prestazione, però a me mi era sembrato talmente bella che l'ho ritenuto poi un azzardo andarci a mettere mano, perché si era visto tutte quelle cose che ci siamo detti in questo periodo. Ora che in qualcosa si è notato poi il raddoppio di un po' di fatica, un po' di ruggine di risultato e via dicendo, qualcosa sicuramente si cambierà.